Io non capisco tutto a questo stupore, anche a Milano Marittima è così la vista, no? Uguale! Non male, eh? Quindi? Quindi vi parla della Madonna, non so. Ah, è il sole, eh? Io mi sa che facessi un commento sul cratere, cacchio, no? Eh, è spettacolare. Come vedete qua, è zona selfie, momento selfie, tutti sorridenti, social. Geoffrey, say hi to Italy. Hi guy from Italy. Oh yeah! Va bene? Perfetto. Se fai bene? Alla grande, alla grande, alla grande. A Santa sana. A Barangoros, un Sori. Hahaha! Ha! Allora ragazzi, cosa dite? Ola così semplice, la Claudia è impegnatissima, saluto così. Mangioli in ginocchio, sempre. Penso sia una cosa anche tra per la forza. Stando sulle zampe dovrebbero allargarle. Quindi per dire attività, non stando così. E questo è Federico Conti per National Geographic in Gorongoro. Una spiegazione tecnico tanto. Allora siamo ancora in Gorongoro e forse ci passa molto vicino alla Iema. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora l'ipopotamo dal vivo, commenti? Andiamo a guardare l'ipopotamo. Grazie a tutti. Dai che ci siamo. Dai che ci siamo. Guarda che ci siamo. Ho preso, ho preso. Ho preso,ui la glitch. Buongiorno dell'ipаете. No, non finisco. просто bene... Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti